Alla vigilia del cambiamento della sua vita, la giovane Caterina scrisse una lettera al suo futuro sposo. In quella lettera gli prometteva che dandosi reciproco e infinito amore sarebbero stati immortali. Siamo immortali, amore. Sa che di notte parlo ancora con lei? Non so. Come vi siete conosciuti? È bello averti. E con la sua storia, con il suo matrimonio, con i suoi figli, lei è la persona più distante da me che io abbia mai incontrato. Lei non è come credi. M Grazie a tutti